Io firmo per cancellare la legge Fornero, per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori e speranza di un futuro migliore ai giovani come me. È giusto cancellare la legge Fornero che ha ingiustamente allungato la vita lavorativa di milioni di donne già impegnate nel lavoro familiare. Sostieni la Lega Nord, abroghiamo la legge Fornero. Migliaia di lavoratori esodati, disperati e pensionati alla fame. Noi vogliamo ridare speranza e dignità al lavoro. Domenica 25 maggio, scegli Lega Nord. Domenica 25 maggio, scegli Lega Nord.